Car Antonio, benvenuto a Riccione. Ben trovati. Il cinema di qualità, insomma, lo si può identificare molto facilmente perché è l'opposto di quello di bassa qualità, in sostanza. Però, scrivere sul proprio listino questa frase che il cinema di qualità cambia volto, che significa? Significa che anche il cinema di qualità deve cambiare perché io che sono un grande sostenitore del mercato penso che il mercato ha sempre ragione. Allora, credo che anche i distributori del cosiddetto cinema di qualità che non direi che si contrappone a quello di bassa qualità direi che si contrappone a un cinema più commerciale o più facile comunque anche il cinema di qualità deve tenere conto del mercato e quindi deve cambiare, deve trovare nuove forme per raggiungere il pubblico perché poi se i registi fanno dei film o i produttori producono i distributori e distribuiscono che nessuno vede o che troppe poche persone vedono mi pare che si perda il senso. Quindi cambia volto vuol dire un cinema di qualità più attento al mercato sia nella scelta dei film che nel modo poi di comunicare i film e di raggiungere il pubblico. Questo è il senso di questa frase. Per quanto riguarda poi in particolare la BIM, cambia volto, vuole anche dire ad esempio aprirsi al cinema di animazione di qualità che prima noi non facevamo e aprirsi anche a un cinema più importante come sono alcuni dei titoli che abbiamo annunciato sulle anticipazioni. Insomma, offrire un'offerta più variegata. Io credo che il mercato dice che lo spazio per il cinema di qualità in senso stretto, unicamente quello, perlomeno per una società come la BIM non è più sufficiente. C'è un titolo di cui sei particolarmente fiero di avere nel listino quest'anno? Sì, direi la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Veramente è un titolo. Insomma, è chiaro che sono diversi i film di cui sono fiero, però se mi chiedete un film direi quello, perché è veramente un grande film. Io ci tengo a ringraziare la Indio e la Rai, che sono i coproduttori italiani, che hanno avuto fiducia in noi. Perché è veramente un grande film, un'operazione che ha tanti risvolti, su cui metteremo tutta la nostra competenza e passione. Scelgo la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Che è stato apprezzato moltissimo a Cannes, peraltro. È stato apprezzato moltissimo a Cannes. I festival sono diversi dai mercati, dal pubblico. Quindi è un buon segnale, non è sufficiente. Il nostro impegno è portarlo a un pubblico che sia veramente ampio. Perché io credo che è un film che può essere visto da tanti punti di vista, approcciato in tanti modi, e quindi che può raggiungere un pubblico molto ampio. Questo è il nostro impegno sul film. Mi chiedevo, ma tu hai un peccatuccio così veniale, che magari di nascosto vai a vedere un film commerciale come Fast and Furious? Quello che gli inglesi chiamano Guilty Pleasure sono i cinepanettoni. Io sono un fan dei cinepanettoni da quando ero ragazzino. Quello è il mio Guilty Pleasure. Più che i Fast and Furious, che ne ho visti tanti quando i miei figli erano piccoli, e ci andavo. Però il vero Guilty Pleasure sono i cinepanettoni e dintorni.